Nel frattempo vedo che si stanno agitando tutti quanti per, mi dicono anche la Presidente del Consiglio, per offrire il trasporto gratuito agli studenti. Che bello, questa è una notizia che ci dà una grande consolazione. Ad oggi l'unica regione d'Italia che garantisce il trasporto gratuito agli studenti da sette anni è la regione Campania. Arriviamo quest'anno a 150.000 abbonamenti gratuiti. In qualche regione negli ultimi due anni si dà un aiuto al trasporto per i bambini fino alle secondarie. L'unica regione che dà il trasporto gratuito fino a 26 anni anche agli universitari, ai ragazzi che frequentano Master, è la regione Campania. Anche se non dite questa cosa, noi siamo molto soddisfatti di aver offerto un modello di civiltà anche al Governo nazionale.